Perché l'acqua ha lo stesso prezzo sia nei mesi di siccità che nei periodi più piovosi? Perché in Colombia, che è il paese più piovoso del mondo, il 27% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile? E perché in Qatar, un paese desertico in cui non esistono fiumi e non piove mai, solo il 4% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile? Perché le persone con scarse risorse economiche pagano 10 volte in più per l'acqua? Tutto questo non ha senso. Ma se ti dicessi che queste domande possono risolvere il problema della mancanza di accesso all'acqua potabile? Oggi voglio spiegarti come i prezzi possono aiutarci a prenderci cura dell'ambiente, senza tralasciare la lotta alla povertà. I prezzi in economia servono a trasmettere informazioni. Un chilo di arance costa meno di 2 euro. Se domani una bufera dovesse distruggere la maggior parte degli aranceti, quel chilo di arance potrebbe arrivare a costare anche 5 euro. A quel punto dovrei adattarmi a questa scarsità e decidere se vale la pena spendere tanto o per questa stagione posso acquistare altri tipi di frutta. Succede la stessa cosa con tutti i beni e i servizi, inclusa l'acqua. E tu mi dirai che l'acqua è una cosa diversa, che è un diritto umano e che dovrebbe essere gratis per tutti. Il fatto che l'acqua sia un bene vitale non significa che la migliore forma di garantire l'accesso all'acqua a tutti sia di renderla gratuita. C'è abbastanza acqua per tutti nel mondo, ma farla arrivare nelle case dove comodamente ne soffruiamo costa anche tanto. Servono tuberie, pompe, elettricità, mano d'opera e anche gestire le acque sporche costa parecchio. È per questo che la Colombia, il paese più piovoso del mondo, ha quasi 13 milioni di persone senza l'accesso all'acqua potabile. A differenza del Qatar di cui parlavamo prima. Non si tratta solo di disponibilità, ma anche della gestione del trattamento dell'acqua. E qualcuno deve pagare per tutto questo. E qui mi dirai, è il governo che deve pagare. Il fatto è che il governo non paga nulla. Siamo noi contribuenti che paghiamo con le nostre tasse. Ma il vero problema non è da dove arrivano i soldi. Il vero problema è che il governo ci offre questo servizio a prezzi fissi e molto bassi. Il che ha enormi conseguenze. Per esempio, un periodo siccitoso, l'acqua scarseggia ma il prezzo rimane basso. Quindi le persone non si adeguano a questa scarsezza, ma continuano a utilizzare l'acqua con disinvoltura come fanno nei mesi più piovosi. E questo comporta che si consumi più acqua di quella disponibile. Quindi l'unica alternativa rimane quella di interrompere l'approvvigionamento idrico in maniera arbitraria. Questo comporta che le persone facciano scorta della maggior quantità di acqua possibile quando hanno accesso a questo bene. Per evitare di rimanere senza acqua negli orari in cui gli rubinetti dell'acquedotto rimangono chiusi. E so benissimo che non ci sono solo i consumatori domestici. Ma anche le imprese fanno un grande spreco di acqua. In ogni momento dell'anno, il discorso è che, che si tratti di privati o di grandi industrie, se continuiamo a pagare l'acqua a un prezzo artificialmente basso, nessuna impresa avrà il minimo interesse ad essere più oculata ed efficiente nella sua gestione. O almeno a rendersi conto dell'effettivo costo e farlo pesare sul prezzo finale del prodotto, rendendo i consumatori consapevoli che si tratta di un prodotto che fa un grande utilizzo di un bene scarso. Il fatto che non si intervenga sui prezzi rende facile, inoltre, installare industrie in posti poco opportuni, come negli Stati Uniti, in cui si spendono milioni di dollari per portare acqua dal fiume Colorado alle caltivazioni californiane che godono di sussidi dello Stato. Attenzione, non sto dicendo che bisogna vendere l'acqua a chi è disposta a pagarla di più. Al contrario, chi più beneficia dei prezzi bassi sono proprio i ricchi, che vivono nelle zone con una migliore copertura di rete idrica e fognaria. E la consumano, senza preoccupazione, a prezzi molto bassi garantiti dalle tasse di tutti. Così le persone più abbienti possono, per esempio, avviare lavatrici quando vogliono, lavare la propria auto con il tubo del giardino o riempire le proprie piscine. E tutto a un prezzo simbolico. E quando la scarsezza di questo bene aumenta, hanno comunque la facoltà di ottenere l'acqua, a differenza del resto della popolazione. Mentre il governo spende le proprie risorse per mantenere il prezzo dell'acqua artificialmente basso anche per loro, invece di spenderle per migliorare la gestione dell'approvvigionamento dell'acqua per tutti. Solo in Italia la rete idrica disperde il 42% dell'acqua trasportata per mancanza di manutenzione. Mentre il po' è in secca e gli altri fiumi non se la passano meglio. C'è una barca sospesa sul lago di Garda. Si trova a 75 cm sul livello dell'acqua. Serve a testimoniare il calo del più grande bacino italiano. E quindi mi dirai che i meno avvienti non sarebbero comunque in grado di pagare questi miglioramenti. In realtà i più poveri sono quelli che pagano di più per l'acqua rispetto ai più facoltosi. Perché non hanno possibilità di accedervi a causa del fatto che nelle loro zone non vengono fatti investimenti. E quindi l'acqua disponibile per arrivare nelle loro case è molto poca. Tutto questo per mantenere i prezzi bassi per chi potrebbe pagarla di più. Il fatto che la tua bolletta dell'acqua sia economica non significa che stiamo pagando poco. Non esiste migliore maniera di riconoscere e risolvere questa scarsità e tutti i problemi che comporta, se non quella di trasmettere questa informazione attraverso il prezzo. Non possiamo continuare con un consumo domestico-industriale e una gestione cieca che non riconosce la realtà in cui viviamo.